Ogni anno la Calabria combatte una battaglia durissima, difendendo il territorio dalla piaga degli incendi boschivi. Se la Calabria brucia, la Calabria reagisce. Anche quest'anno, un massiccio impiego di forze specializzate, l'utilizzo di droni e fototrappole e sanzioni ancora più severe rappresentano la linea dura per un concetto semplice, tolleranza zero. Chi appicca un incendio è un criminale e i criminali vengono puniti. Perché chi scherza con il fuoco brucia la propria vita. Sul sito Calabria Verde, le pene e le sanzioni relative agli incendi boschivi sono chiare. Informati per non mandare in fumo la tua estate. Se avvisti un incendio, chiama subito il numero verde 800 496 496. Arrestiamo questa pratica criminale. Difendiamo la nostra terra.